Con la categoria donne, e qua è un valletto che possa dare valore a questo incedere, terza classificata categoria femminile, Vanessa Nobis! Marco, pa, podio, podio! Rubando, podio, rubando! C'è anche un podio! Grazie! Una classificata, Sara Marini! Ramentiamo che qui c'è gente che è arrivata dall'Aquila per partecipare alla finale del circuito Coppa Italia, quindi un grande applauso a Sara! La vincitrice assoluta della Coppa Italia, poi comunque passeremo la premiazione assoluta, Erika Pradella! Vai Erika! Andiamo, andiamo su, andiamo su, facciamo un'altra ritalità! Andiamo a fare uno spoilerato, non è che non è! Guarda la mia tavola, guarda la mia tavola! ehi! 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 Brava, brava! Ehi! Ehi! Brava, brava! figurarsi, se ci fosse solo un po' più di giorni a disposizione, un grande, un grande Fabrizio Giacomini! E che dire della solita lotta continua tra questi due personaggi che impazzano e spopolano un po' ovunque alle gare? All'ospizio? Secondo! Giancarlo Costa! Con il tempo di 1.06.39 e, reduce dai successi della stagione, al primo posto e vincitore della tredicesima edizione del rally board, Cesare Pisoni! Buongiorno! 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 Sono arrivato anche a stermi qui! Ormai mi siete qui, mi ne vado più! Grazie! Buongiorno! Grazie a noi che ci sono un piacere! Su, su! Eee! Buongiorno! 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 Due Euro! Ne słu. Buongiorno! C hmmm! Buongiorno! Buongiorno! Sì! e cattemelo, così! Vori, filo, di tutti! Ci М Radio? Buongiorno! Se non gli dice le cose Marzio, lei non fa niente. E' l'unico che sta parlando. Aspetta, aspetta. Uno, due. Due. Bellissima. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora? Allora?